Ma è sempre un esempio che non ha capo da ricco dai 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 ragazzi ci trocca pochissimo ragazzi ci trocca pochissimo, dai vai se perché non chiamate synthica vada c'è anche chimico dentro, vai vai dai ragazzi ci trocca pochissimo, dai dai ragazzi dai dai facciamo la doppietta dai facciamo la doppietta, vai vai ragazzi vai ragazzi da dove è la no 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 vai con il dietro dai dai che manca a poco dai che manca a poco venga sull'ultima curva venga sull'ultima curva dai ragazzi vai che te la salita adesso vai vai Seb vai Seb vai Seb vai Seb vai vai si 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 grande Seb grande Seb grande Kimi grandi ragazzi grandi che c'è la botta sull'editon la botta è la botta è la botta la botta è la botta sull'editon incredibile incredibile la botta sull'editon